Vigili urbani di Venezia in rivolta, ma anche nel mirino dei veneziani. È bastato postare sulla pagina Facebook e mandare in onda nel nostro social TG un video in cui si vedono due vigilesse al cellulare, mentre accanto a loro i venditori abusivi fanno affare in piazza San Marco per far esplodere le condivisioni, i mi piace e gli attacchi al corpo della polizia municipale. C'è chi ci ha chiesto di inviare il video al comune, chi scrive e fanno le gnorri, continuiamo così, e chi, come Sofia Ugo, critica la protesta di ieri contro il comandante della polizia municipale Marini e il direttore generale Agostini, quando gli agenti hanno dato le spalle ai loro dirigenti, come i colleghi di New York. E dopo voltano le spalle al loro capo, scrive Sofia Ugo. Noi cittadini dovremmo farlo a chi non fa il proprio dovere ed è pagato bene dalla comunità. Ecco, il nodo è proprio questo, lo stipendio decurtato di 300 euro mensili da quando il comune di Venezia ha scoperto di avere un rosso di decine di milioni da recuperare, o meglio, da quando lo ha rivelato il commissario straordinario Zappalotto. Dall'inizio dell'anno sono stati anche ridotti i turni, ma già nel 2014 è stato riorganizzato il lavoro perché sono stati eliminati gli straordinari e dunque sono stati ridotti i controlli. Mentre gli incidenti stradali sono aumentati, in calo del 10% anche i controlli sugli esercizi pubblici e ridotti del 40% le violazioni rilevate rispetto al 2013. Va ricordato ciò che il commissario Zappalotto ha spiegato sin dai primi giorni del suo insediamento, però, che i vigili urbani veneziani guadagnano di più, o guadagnavano di più, dei colleghi padovani e trevigiani.